Benvenuti a Metemolise, queste le previsioni per la giornata di oggi sulla nostra regione. Tempo in miglioramento con cielo sereno e residuo a nuvolosità, soprattutto in provincia di Isernia, venti deboli in mare, poco mosso, temperature in diminuzione e comunque al di sotto della media del periodo. Vediamole nel dettaglio. Campobasso minima 13, massima 23 gradi, Isernia 16,25, Termoli 20,26, e Boiano 15,25. Alla Rino temperature comprese tra 16 e 26 gradi, Agnone 12,22, Venafro minima 17, massima 27 gradi.